Ciao, sono Paolo Bacci e vi presento questo 7900 Leica Creos, un camper storico per la Leica montato su meccanica Fiat 3000 su telaio alco. Il telaio alco è un vero sottopavimento, vi faccio vedere proprio lo spazio, il grande spazio che ha questo sportello in alluminio e questo è tutto lo spazio che va da destra a sinistra, quindi con un grande contenitore. Cos'ha questo camper? Forse è un po' opaco ma è una lucidatura visto che è alluminio è veramente facile e veloce. Se volete vedere la scheda cliccate nella vostra destra in altro e si aprirà la scheda del nostro sito con tutte le caratteristiche di questo camper e gli optional compresi. Andando all'esterno c'è un bel garage, eccolo qua, come sapete ecco qua che mi metto, ora c'è il vento che ha lasciato lo sportello, guardate com'è, è grande, ha una bella capacità sia come volume che come portata. Poi in questa parte si accede proprio tutti i due serbatoi potabile e recupero chiare sono nella parte centrale dell'interasse posteriore, quindi come vedete è tutto qui ben in vista. E da quest'altra parte c'è la valvola elettrica di scarico del serbatoio, mentre di qua c'è la pompa, quindi qui c'è tutto l'impianto idraulico riscaldata e questa è una doccettina che collegandola si fa la doccia all'esterno. Qui ci sono tutti i vari ganci, questi sono i ganci che possono servire per fare, per avere un armadio su due in più, cioè agganciati, pensate ai montagni, essendo questo contenitore riscaldato ci si mettono le cose bagnate e ce le ritroviamo asciutte. E quindi proprio perché in montagna c'è bisogno di avere un po' spazi in più per contenere vestiti e giacchi. Andiamo al suo interno. Mi raccomando iscrivetevi al nostro canale YouTube e cliccate la campanella che sarete sempre aggiornati dei miei video di quelli di Andrea e quelli di Nicoletta nel negozio. Qua un contenitore porta scarpe proprio qui all'ingresso, un bel accesso e la porta zanzariera. E ora andiamo al suo interno. Qua lo sportello con l'accesso del contropavimento, il sottopavimento dall'interno. Le due, vedete questo, ecco pelle, e girandole guardate com'è veramente comodo perché uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette. È una zona giorno molto abitabile proprio per fare insieme amici e due chiacchiere e anche mangiare qualcosa insieme. Un bel aperitivo. Questo camp ha tanti accessori quindi guardate la scheda. Non ve li sto a spiegare uno a uno perché quello, il fine del mio video è quello di farvi vedere come si abita. Guardate qui la televisione, com'è molto comodo sia di qui che in questa zona giorno. E ora con un semplice gesto si butta giù. Frigorifero. 160 litri con congelatore e il frigo. Poi un bel contenitore sopra il frigorifero. E poi la parte anteriore. Penzile. Vedete che profondità poi in questo bel profilo d'alluminio che è veramente un oggetto funzionale. Il letto che si abbassa i schienali, poi semplicemente si sgancia la cintura e si abbassa il letto. Il suo oblo e poi un bel letto con un bel materasso a doghe. E protezione nel caso di bambini. Questo campe è un campe da comodo 2 perché ora vi faccio vedere la parte posteriore. Però anche quattro persone. E ora con un semplice gesto ritorna ad essere una bella zona giorno. Il blocco cucina. Guardate questo bel piano, il bel lavello. Con scolapiati e anche un bel tagliere. Quattro fuochi e forno. E qua un bel contenitore. Qui coloro che gli fa piacere cucinare, uomini o donne, perché molto spesso io un po' meno. Perché anche mia moglie è brava. Chi gli piace è un bellissimo posto da poter fare del buon cibo. E anche avere degli amici che vi vengono volentieri dietro. Perché a volte parlando con dei clienti che, soprattutto i signori cuochi, hanno sempre un bel seguito. Qua la parte posteriore. Qui la porta che divide la zona giorno alla zona notte. E qui la parte che divide la zona notte da zona servizi alla zona giorno. Il letto classico con un bellissimo, questo è il cuscino che fa diventare un bel letto matrimoniale qua, per traverso. Oppure uno, due e tre. Il letto, eccolo qua, mi ha tanto piedi, ora non lì. Ci si sta bene. Io sono 1,90 quindi ci sto molto comodo. Poi vedete quanti contenitori. Nello scalino c'è il contenitore. Poi si accede da sopra o da fianco per questo armadio. E di qua con questi due bei cassetti. La doccia ha il suo oblo, il suo porta abiti, ragganciate per l'accappatoio che asciugano velocemente. E poi la doccia. Eccola qua, la doccia. Come vedete mi muovo bene. Come vedete mi muovo bene senza problemi. un bello scarico anteriore, quindi vi trovate sempre a scaricare l'acqua. Di qua il WC. Questo è il WC. Immaginatevi la porta, poi lo vedete com'è concava, quindi è ancora più facile. Però anche quando c'è la porta aperta ci si sta bene con l'appoggio. Così la sua finestra e l'oblò. Il lavandino è bello profondo. E qua, vedete, mi lavo facilmente. Mi ero dimenticato dei contenitori. Qui e qua giù sotto. Guardate quanto spazio. E anche questo cassetto. Quindi è un camper fra il doppio pavimento e tutti i contenitori interni. Potete portare qualsiasi cosa inverno ed estate. Quindi vi aspetto, vi aspettiamo per spiegarvelo. Perché la cosa importante di questo video è farvi capire se è un camper per voi. E farvi venire a visitarlo e a vederlo per conversare e avere uno scambio da parte nostra di come si usa e un aiuto per farvi fare un acquisto consapevole. Come sempre, all'ottimi prezzi e servizi caravambacci. Ciao.